partiti in vantaggio a centropista air dryer con all'esterno Little O'Hara e Astragalus ridosso anche Giacomo Casanova che ora risale al centropista in coda Shining Diamond e Nabila allo seccato ora è air dryer al suo attacco si propone Giacomo Casanova dietro i due si mantiene Little O'Hara con all'esterno Astragalus poi Shining Diamond e Nabila siamo a 400 dal palo air dryer e Giacomo Casanova sono in lotta nei confronti di Little O'Hara e Astragalus che avanzano a centropista nel tratto finale all'interno air dryer attaccato da Little O'Hara che sta passando a centropista attaccato all'esterno da Astragalus nel finale Little O'Hara si mantiene in vantaggio ed è Little O'Hara che si impone mentre per il posto d'onore Astragalus dovrebbe precedere air dryer e Nabila andiamo a rivedere le immagini con l'affermazione del numero quattro dello schieramento Little O'Hara con in sella Carletto Fiocchi al posto d'onore all'esterno il due di Astragalus prevale sull'uno di air dryer quindi quattro due uno il probabile e ufficioso arrivo della terza corsa di Napoli all'esterno il controllo un sottotitolo all'esterno il progetto d'onore all'esterno il progetto d'onore all'esterno il progetto di Napoli